Musica Mal tempo, intense nevicate nella notte, nessun disagio alla circolazione, scuole chiuse in diversi centri del Vallo di Diano. A Quara, la morte del 14enne è stata una tragica fatalità. Sala Consilina, al Via Domani la Due Giorni di Eventi, per i cento anni della fine della Prima Guerra Mondiale. Sant'Arsenio diventa plastic free, no all'uso della plastica monouso. Calcio, eccellenze, il Valdiano perde il recupero contro l'Agropoli. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. La notte appena trascorsa è stata caratterizzata da intense nevicate come da previsione meteo. Mal tempo che però non ha provocato disagi, grazie anche al rapidissimo intervento dei volontari della protezione civile e dei diversi comuni. In diversi centri però i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole. Come annunciato è tornata la neve anche sul Vallo di Diano, ma anche in questa occasione nessun disagio per i cittadini, grazie anche alla pronta reazione dei volontari della protezione civile e dei diversi comuni, che sin dalla tarda serata di ieri sono al lavoro per verificare le condizioni meteo e per intervenire sulle arterie stradali. La nevicata della notte è stata intensa, ma non ha comunque provocato disagi, grazie anche le temperature non proprio gelide che hanno consentito il rapido scioglimento dei residui. Ad assicurare la circolazione fin dalle prime ore del mattino ci hanno pensato invece i volontari della protezione civile e dei diversi comuni. L'allerta meteo diramata nella giornata di ieri dal Nucleo di Protezione Civile Regionale ha spinto diversi comuni valdianesi ad attivarsi immediatamente per verificare ed individuare eventuali punti critici. Scuole chiuse in gran parte dei comuni del Vallo di Diano ed in particolare in quei comuni la cui altitudine supera i 400 metri dal livello del mare, che sono anche i risultati più colpiti dalle nevicate. Le ordinanze di chiusura delle scuole sono arrivate dai comuni di Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Monte San Giacomo, Teggiano, Caggiano, San Rufo e anche da Buonabitacolo. La neve è continuata a cadere intensa fino all'alba di questa mattina ed è proprio il prosieguo della nevicata che ha spinto i sindaci a disporre la chiusura delle attività scolastiche, nonostante i mezzi spazzaneve e spargisale fossero già al lavoro. Nel pomeriggio precipitazioni nevose in attenuazione, il bollettino a meteo diramato nella mattinata di oggi prevede per domani, venerdì 11 gennaio, precipitazioni nevose a quota a 400-500 metri di altitudine con rischio gelate visto le temperature in diminuzione. Ed ora la cronaca, sembra sia stata una tragica fatalità la morte del 14enne di Aquara. Questa è la conclusione delle indagini. Il ragazzo è deceduto, lo ricordiamo, tra lunedì e martedì notte cadendo dalla finestra. Novità sulla tragica morte del giovane di Aquara Lucio Marino. A chiarire come sono andati i fatti illegali della famiglia del 14enne, secondo il quale la scomparsa del ragazzo sarebbe da attribuire solo ad una tragica fatalità. Stando alle considerazioni del legale, a seguito di un malessere Lucio avrebbe tentato di prendere un po' d'aria, probabilmente sporgendosi troppo dalla finestra. Secondo l'avvocato nulla di diverso lasciano pensare i rapporti intrattenuti con chi gli voleva bene, anche attraverso il cellulare e il computer. Inoltre i familiari del giovane Lucio chiedono rispetto per il figlio e per il dolore che li ha colpiti. Ora la comunità è pronta a dare l'ultimo saluto al giovane. La salma è stata liberata e questa mattina è stata trasportata nella chiesa di San Nicola, dove è stata allestita la camera ardente. Intanto sul caso continuano ad indagare i carabinieri della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, seguite dal PM del Tribunale di Salerno Minerva, che ha disposto il sequestro di computer e cellulare, presenti nella camera del ragazzo. Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, quando a scoprire l'accaduto è stato il padre. In casa, al momento della tragedia, c'erano solo i genitori. L'accaduto ha creato un certo sgomento nella comunità e anche il sindaco Antonio Marino ha espresso la propria vicinanza ai familiari del giovane Lucio. Ed ora cambiamo decisamente argomento. Domenica 13 gennaio, primo appuntamento del 2019, con l'open day dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio per conoscere l'offerta formativa degli indirizzi ITE e IPSEOA. Intanto presso la sede centrale è stato attivato uno sportello informativo per le iscrizioni online. Pochi giorni a disposizione per una scelta importante che potrebbe anche condizionare il futuro lavorativo dei ragazzi. La piattaforma del MIUR dedicata alle iscrizioni per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado si chiuderà il 31 gennaio prossimo. Entro tale data dovranno essere effettuate direttamente online le iscrizioni in tutte le scuole. Saranno però i ragazzi che frequentano le classi terze delle scuole secondarie di primo grado, quelli chiamati alla scelta più importante, dovendo decidere su quale sia il percorso di studio che più si addice alle aspirazioni in vista di un futuro lavorativo. Per aiutare i ragazzi e le famiglie nelle iscrizioni online, ma anche per presentare la propria offerta formativa, l'Istituto di istruzione superiore Sacco di Sant'Arsenio con la dirigente scolastica Rosaria Murano ha deciso di aprire le sue porte sia per presentare il percorso di studio e sia per supportare famiglie e ragazzi nelle operazioni di iscrizione attraverso il sito Miur. Presso la sede centrale dell'Istituto a tal proposito è stato attivato uno sportello informativo presso cui è possibile rivolgersi per ricevere assistenza. Lo sportello resterà attivo fino al prossimo 31 gennaio, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, nell'orario mattutino dalle ore 9 alle ore 13. Previste inoltre aperture pomeridiane nei giorni del martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Sarà invece possibile conoscere l'ampia offerta formativa dell'Istituto Sacco tutte le domeniche di gennaio partendo da domenica prossima 13 gennaio con il primo Open Day del 2019. Dalle ore 16 alle ore 19 porte aperte presso la struttura dell'Istituto Tecnico Economico dove la dirigente scolastica Rosaria Murano insieme ai docenti e agli studenti saranno a disposizione di famiglie e ragazzi per illustrare l'offerta formativa dell'indirizzo con percorsi di studio in amministrazione, finanze e marketing, sistemi informatici aziendali e relazioni internazionali per il marketing. La preside Murano sarà inoltre presente anche presso la sede dell'IPSEO, Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici di Ospitalità Berghera, per presentare gli indirizzi di studio che sono accoglienza turistica, sala e vendita, enogastronomia. Gli Open Day dell'Istituto Sacco proseguiranno anche nelle domeniche del 20 gennaio e 27 gennaio. In tutti gli appuntamenti sarà possibile visitare gli istituti e i diversi laboratori. Inoltre sono state anche programmate simulazioni didattiche ed entrambi gli edifici sarà anche allestito uno spazio per la degustazione delle specialità gastronomiche preparate dai ragazzi dell'IPSEOA. E domani sera il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula presenterà ai ragazzi e alle famiglie nuovi laboratori arricchiti con apparecchiature di ultima generazione. A partire dalle ore 16 l'incontro con le famiglie per conoscere l'offerta formativa e dalle 18 i laboratori aperti. I nuovi laboratori allestiti presso il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula saranno protagonisti di una serata di feste in programma domani sera, venerdì 11 gennaio, a partire dalle ore 18. La festa dei laboratori sarà occasione per tanti ragazzi che frequentano le classi terze delle scuole secondarie di primo grado di conoscere e toccare con mano la realtà scolastica e le attività laboratoriali che potranno eseguire qualora la loro scelta per il futuro percorso scolastico da intraprendere ricada sul liceo scientifico Pisacane. Anche le famiglie saranno protagoniste della festa durante il quale la dirigente scolastica Liliana Ferzola, insieme alla vicepreside Carmela Pessolano e a tutti i docenti dell'istituto, con il supporto anche degli allievi che frequentano già l'istituto, presenteranno le nuovissime attrezzature in dotazione dei laboratori ubicati all'interno dell'edificio scolastico, arricchito e impreziosito da una biblioteca in continua evoluzione e ampliamento. L'appuntamento di domani sera inoltre consentirà ai ragazzi delle classi terze medie anche di essere accompagnati dagli studenti del liceo scientifico a realizzare prove ed esperimenti, potendo così usufruire delle apparecchiature scientifiche del liceo Pisacane. La festa dei laboratori sarà preceduta da un incontro colloquiale in cui la dirigente scolastica e la classe docente presenterà l'offerta formativa dell'istituto. Un'offerta ampia che può soddisfare le esigenze e le aspettative di ragazzi e famiglie per offrire una preparazione adeguata alle diverse aspirazioni dei giovani. Saranno così illustrati nel dettaglio diversi indirizzi di studio proposti dal liceo scientifico, partendo dal percorso ordinario e la specialistica delle scienze applicate e delle scienze applicate sezione STEM, che prevede un rafforzamento dello studio delle materie scientifiche, matematiche e tecnologiche. Sarà poi possibile conoscere nel dettaglio il percorso di studio proposto con l'indirizzo biomedico che consente ai ragazzi di avere una maggiore preparazione in materie che possono favorire un'eventuale scelta universitaria per gli studi medici. Fiora all'occhiello la sperimentazione riconosciuta al liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula del liceo quadriennale che offre una perfetta formazione del giovane in un tempo ridotto, conformandosi così alle direttive europee. E domani sera, come ormai da consuetudine da cinque anni, il liceo classico Cicerone di Sala Consilina si trasforma in luogo di festa, divertimento, socializzazione, cultura e spettacolo con la notte dei licei classici. Aderendo all'iniziativa di carattere nazionale, anche l'istituto diretto dalla preside Antonella Vairo, a partire dalle ore 18 di domani, sarà impegnato con una serie di attività di vario genere che vanno dai laboratori didattici agli spettacoli musicali, passando per incontri culturali che si svolgeranno nelle diverse aree dell'istituto dedicate ai ragazzi. Tutta la comunità è invitata a partecipare all'evento di festa che si concluderà in contemporanea in tutta Italia con una cerimonia di spegnimento delle luci a partire dalle ore 23.45 fino alla chiusura ufficiale del portone d'ingresso. Ed ora restiamo sempre a Sala Consilina dove inizieranno domani per concludersi sabato 12, la due giorni di appuntamenti promossa dall'amministrazione comunale ideata dalla Presidente del Consiglio Maria Stabile con il sostegno della Banca Montepruno. Tanti eventi culturali ma anche partecipazione alle attività commerciali che sono state invitate a posizionare una bandiera italiana all'ingresso di tutti gli esercizi in segno di partecipazione alle celebrazioni. Sarà con una due giorni di grande intensità che l'amministrazione comunale di Sala Consilina vuole chiudere l'anno di celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Partiti nel gennaio del 2018 le iniziative sono state prevalentemente rivolte agli alunni delle scuole. Ora in questa due giorni organizzata grazie al sostegno prezioso della Banca Montepruno sarà l'intera comunità di Sala Consilina partendo dagli esercizi commerciali ad essere chiamati a partecipare alle attività commemorative. Si partirà domani, venerdì 11 e in questi due giorni gli esercizi commerciali esporranno il tricolore in segno di partecipazione attiva all'iniziativa. L'associazione Io e Centro ha invitato gli associati ad installare le bandiere, un invito esteso anche a tutti i commercianti delle frazioni di Trinità e Sant'Antonio per far sì che tutta Sala Consilina sia partecipe di sentimenti di unità e fratellanza nel nome della patria in segno di riconoscenza nei confronti di tanti giovani salesi morti per l'Italia. Diverse inoltre gli appuntamenti in programma realizzati come detto grazie al contributo della Banca Montepruno e il patrocinio dell'ente provinciale per il turismo. Ad aprire la due giorni organizzata dalla Presidenta del Consiglio Maria Stabile con il supporto di volontari civili di Sala Consilina saranno i ragazzi delle scuole che assisteranno alla proiezione di un film che racconta la Grande Guerra. Nel pomeriggio sarà inaugurata la mostra di cimelli storici e prodotti filatelici dell'epoca della Grande Guerra allestita grazie alla disponibilità di privati cittadini e del museo di Montesano sulla Marcellana. La mostra resterà in allestimento presso il polo culturale Cappuccini fino a domenica mattina 13 gennaio. Nel pomeriggio di venerdì presso la chiesa della Santissima Annunziata sarà proiettato il film Torneranno i prati di Ermanno Olmi con protagonista anche l'attore salesi Andrea Di Maria. Un film toccante e commovente che racconta i momenti drammatici vissuti dai militari nelle gelate trincee. Sabato 12 si aprirà al mattino con una cerimonia di commemorazione presso il Monumento dei Caduti dove sarà deposta una corona di alloro. A seguire la Santa Messa presso la chiesa della Santissima Annunziata. Sarà il concerto del Coro degli Alpini di Latina presso il Teatro Scarpetta a chiudere l'anno di celebrazione in ricordo della Prima Guerra Mondiale con numerosi brani che raccontano e rievocano momenti e sentimenti che hanno caratterizzato la vita al fronte durante gli anni della guerra. Sarà quindi una due giorni di full immersion per far sì che l'intera comunità di Sala Consilina e non solo nel ricordare il dramma della guerra possa riappropriarsi dei valori di forte legame difesa della patria e della propria terra che hanno mosso migliaia e migliaia di giovani pronti a morire pur di difenderla. Ed ora ascoltiamo dalla voce del Sindaco Francesco Cavallone e della Presidente del Consiglio Comunale di Sala Consilina Maria Stabile l'invito alla partecipazione alla due giorni di commemorazioni. Abbiamo pensato di voler organizzare questo evento commemorativo anche se qualche giorno in ritardo per rievocare i cento anni della fine della Prima Guerra Mondiale che credo che sia un evento che ha segnato l'Italia, ha segnato il mondo e quindi era anche opportuno e doveroso fare questo tipo di iniziativa. A noi saranno due giorni molto intensi perché la mattina di venerdì verrà proiettato per i ragazzi di scuola un film revocativo degli eventi bellici e nel nostro splendido teatro. Questo evento nel pomeriggio ci sarà l'inaugurazione della mostra all'interno del nostro auditorium Cappuccini per poi la sera esserci un'altra proiezione del film alla chiesa della Santissima Annunziata torneranno i prati un film di Ermanno Olmi. Poi saremo tutti quanti ospiti al santuario di San Michele per poter pranzare con questo coro degli alpini che alle sei e mezza si esibirà nel nostro teatro Mario Scarpetta, la sezione di Latina. Credo che sia una cosa molto originale, non so quante volte sia capitata nel passato a Salo Consilina ma sicuramente crediamo di aver apportato una novità all'interno del nostro territorio. Come poteva l'amministrazione comunale non organizzare una manifestazione in ricorrenza del centenario della fine della Grande Guerra? Sala è un centro di cultura e come tale noi dobbiamo dare un messaggio attraverso dei simboli, attraverso la conoscenza della storia che tutti conosciamo. Organizzando questa manifestazione abbiamo coinvolto la cittadinanza tutta. Perto è una novità per noi far venire qui un coro degli alpini, ma è stato pensato e voluto perché noi sappiamo la Prima Guerra Mondiale dove è stata svolta, dove si è consumato questo momento tragico per i nostri giovani 17-18 anni mandati allo sbaraglio per darci la libertà. Quindi sul Carso, ecco, e quindi gli alpini mi sembrava il corpo più idoneo. Ed ora la pubblicità, tra poco con tutte le nostre notizie. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Il comune di Sant'Arsenio diventa plastic free adottando una serie di misure finalizzate a ridurre il consumo di plastica monouso su tutto il territorio comunale, aderito alle sollecitazioni che arrivano dal Ministero dell'Ambiente per varie amministrazioni e per fermare l'inquinamento da plastica. Sant'Arsenio diventa plastic free, l'ente guidato da Donato Pica deliberato di adottare misure per arginare gli effetti di un materiale che è diventato il principale nemico dell'ambiente e un rischio per la salute umana. A causa della sua lenta decomposizione, la plastica che accumuliamo diventa un problema che non si può più ignorare. Impressionanti sono le isole di materiale plastico che galleggiano nei mari, ma non meno preoccupanti sono le microdiscariche a cielo aperto che troviamo anche nel Vallo di Diano. Il comune di Sant'Arsenio ha allora individuato alcune misure per frenare il consumo di plastica monouso. Parte dando il buon esempio con la riduzione dell'uso della plastica sostituendola con vetro e prodotti biodegradabili negli uffici pubblici del comune. Passa poi alla promozione della gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante manifestazioni, convegni, sagre e ogni iniziativa aperta al pubblico, prevedendo specifiche forme di premialità e prescrivendolo negli atti di uso e concessione di strutture pubbliche o solo pubblico. Necessarie poi saranno le azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale nelle scuole nonché incontri rivolte alla cittadinanza. E si impegna poi a promuovere il Green Public Procurement attraverso l'introduzione di criteri premianti nelle procedure ad evidenza pubblica negli acquisti plastic free o plastica riciclata. Il Ministero dell'Ambiente ha avviato già da un po' un percorso per diventare plastic free e sta sollecitando tutte le amministrazioni pubbliche affinché siano da esempio i cittadini e si impegnino a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata. Da queste parti sono ancora troppo pochi i comuni che hanno preso seriamente in considerazione la sfida, aderendo a quella che è innanzitutto una rivoluzione culturale. Come ogni anno è tempo di bilanci per le luci d'artista a Salerno. Non sono mancate le sorprese e le delusioni. I dettagli nel servizio. Luci d'artista a Salerno è tempo di primi bilanci. Le luminari, eccezion fatta per l'albero in piazza Portanova, resteranno in città fino al 20 gennaio, ma già emergono dei dati importanti. Sorprende il calo dei pullman turistici e l'aumento dei visitatori provenienti dal nord Italia, ma non solo. Imprevisto è stato il risultato di Lumina Minerve. In poche settimane i giochi di luce ricreati nell'anticorto hanno raggiunto quota 15.000 visitatori. A deludere le aspettative complice il maltempo, la ruota panoramica è in piazza della Concordia. Rispetto allo scorso anno si è passati da 90.000 a 50.000 visitatori. Non a caso a Palazzo di città è arrivata una richiesta di proroga della concessione dello spazio per far restare la ruota fino ai primi di aprile. Alberghi e strutture extraalberghiere, come ogni anno, hanno beneficiato più di altri della Kermess. Il tasso di occupazione media è stata dell'80%, grazie a weekend da tutto esaurito dei turisti, che rispetto alle passate edizioni hanno fatto registrare una maggiore affluenza dal nord Italia. Unica vera nota dolente inaspettata è il calo dei bus, considerata la comodità che sulla carta dovrebbero garantire. Un dato ancora certo non c'è, ma stando alle prime indiscrezioni, i numeri sono diminuiti drasticamente rispetto al passato. Molti hanno scelto di raggiungere Salerno in treno e in macchina, flessione che inevitabilmente porterà delle migliorie per il futuro. Forse, dopo anni di successi, le sole luce non bastano più, essendo necessarie quelle novità che, come in ogni settore, alimentano di continuo la curiosità delle persone. Secondo i più attenti, l'offerta della città dovrà arricchirsi e variegarsi, puntando sul potenziamento e sull'introduzione di nuovi servizi. Andiamo avanti. Dopo la pausa natalizia riprende teatro in sala. Domenica salirà sul palco la compagnia Costellazione di Formia, che nella scorsa edizione ha vinto il premio assoluto della rassegna salese. Domenica porterà in scena il gioco delle rose. Ospite della serata invece sarà il maratoneta Giuseppe De Rosa. Domenica prossima, 13 gennaio, riparte teatro in sala al Mario Scarpetta di Sala Consilina. Dopo la pausa natalizia riprende alla grande con uno spettacolo di altissima qualità drammaturgica e attoriale. Il gioco delle rose sarà messo in scena dalla compagnia teatrale Costellazione di Formia, che tra l'altro è la vincitrice del premio assoluto teatro in sala della scorsa edizione. Il gioco delle rose con drammaturgia e regia di Roberta Costantini e Marco Marino è liberamente ispirato a Roma e Giulietta di William Shakespeare. Un grande classico del teatro amatoriale rivisitato. La regia dello spettacolo infatti ne riprende e amplifica a dismisura lo stile marcatamente visionario. La vita e le vicende sono messe in scena come fossero un'immensa partita a scacchi. La bicromia a due dimensioni della scacchiera si innalza in muri e torri, dove funamboliche pedine sgomitano per diventare qualcosa che trascenda il ruolo da loro indossato. Le figure degli scacchi diventano individui, immedesimandosi nella più grande tragedia d'amore del mondo. Tutti i vari appuntamenti, anche per questa edizione, sono arricchiti dalla partecipazione di talenti valdianesi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale. Domenica sera l'ospite sarà il Maratoneta Estremo Giuseppe De Rosa di Sala Consilina, che racconterà le sue esperienze sportive e di vita in giro per il mondo. L'Associazione Ragazzi di San Rocco, che cura la direzione artistica di teatro in sala, in accordo con le scuole del territorio, promuove la partecipazione dei giovani alle attività teatrali. Gli alunni del Pomponio Leto di Teggiano, del Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina e del Carlo Pisacane di Padula possono entrare al teatro pagando un solo euro. È una novità della storica rassegna che con la stagione 2018-2019 giunge alla 23esima edizione. Ed ora lo sport con il calcio. Ieri pomeriggio il recupero della nona giornata di eccellenza girone B tra Valdiano e Agropoli. Vincono gli ospiti con una grande prova di forza. Dopo un weekend ai box causa neve, ieri pomeriggio è sceso in campo il Valdiano per il primo appuntamento del nuovo anno, recuperando la nona di campionato contro l'Agropoli. Tra le muramiche del Vertucci, gli uomini di Mister Tudisco hanno subito la grande prova di forza degli ospiti, che si sono imposti per 4-2, con i tre punti messi in cassaforte già al termine della prima frazione di gioco. Match subito in salita per i patroni di casa, che al 17esimo subiscono il vantaggio ospite di Natiello, bravo a realizzare il rigore concesso dal direttore di gara per farlo subito dai soldi. Al 28esimo il raddoppio con Tandara Lesto ad insaccare la corta respinta del portiere Faggiano. E sette minuti prima dell'intervallo, il tris dell'undici guidato da Mister Esposito, siglato ancora da Natiello, con un tiro da fuori di pregevole fattura. 3-0 dopo il primo tempo, un risultato a dire il vero troppo pesante per il Valdiano. Gli Azzulgrana tornano in campo determinati a recuperare, con Ducure che accorcia subito le distanze di testa. Ma allo scoccare dell'ora arriva la rete ospite del 4-1 segnata da Tandara, che su cross proveniente dalla sinistra, infila da pochi passi per l'ennesima doppietta di giornata. A nulla vale, se non per il tabellino, la rete extra time di Ducure. In attesa di recuperare il turno con la battipagliese, il Valdiano rimane invischiato nella lotta per non retrocedere. Certo, la partita di ieri non era sicuramente tra le più agevoli, visto che i cilentani con i punti si sono portati in vetta alla classifica. Nelle prossime partite sarà vietato sbagliare gli scontri diretti, confidando anche sulle energie fresche dei nuovi innesti, ultimo quello del terzino sinistro Masullo, che porta tanta esperienza nel team valdianese, avendo già militato in diverse compagini delle serie superiori. E con il calcio termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie.